Quando disegno mi è più facile disegnare forme geometriche, non dico spigolose, ma non sinuose, quindi è proprio probabilmente un collegamento di visualizzare le forme, immaginare le forme attraverso, per me è un cardo e un decumano, sono linee rette, intrecci, incroci. Personalmente sono molto legato al concetto di convivialità, ho sempre vissuto la mia vita, soprattutto quella in famiglia dove aggiungere un posto a tavola era una consuetudine. Per una persona come me che ha vissuto una vita di convivialità ha un significato molto intimo e molto di affetto. Finita l'università ho iniziato a lavorare nel mondo del design, senza avere conoscenza all'epoca di quello che in realtà il mondo del design fosse, però c'erano allora dei riferimenti. Questi riferimenti ci sono ancora. Uno di questi, forse il più interessante, il più da raggiungere come obiettivo era Cassina. Il fatto di aver avuto l'opportunità di lavorare con, lo considero quindi un ottimo risultato.